Parte seconda. Il primo che, avendo cintato un terreno, pensò di dire «Questo è mio!» e trovò delle persone abbastanza stupide da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quante guerre, quanti assassini, quante miserie ed errori avrebbe risparmiato al genere umano chi, strappando i piuoli o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili «Guardatevi dal dare ascolto a questo impostore! Se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno, siete perduti!» Ma c'è molto motivo di credere che allora le cose fossero già giunte a un punto tale da non poter continuare così come erano, perché questa idea di proprietà dipende da molte idee che si sono potute formare solo successivamente, non nacque improvvisamente nello spirito umano. Fu necessario fare molti progressi, che si acquistassero molte capacità e molti lumi, e questi fossero trasmessi e aumentati da un'epoca all'altra prima che si arrivasse a quest'ultimo confine dello stato di natura. Riprendiamo dunque le cose più indietro e cerchiamo di riunire sotto un solo punto di vista questa lenta successione di avvenimenti e di conoscenze nel loro ordine più naturale. Il primo sentimento dell'uomo fu quello della sua esistenza, sua prima cura fu quella della sua conservazione. I prodotti della terra gli fornivano tutti gli aiuti necessari, l'istinto lo portò a usarne, mentre la fame e altri appetiti gli facevano provare di volta in volta diverse maniere di esistere, ce ne fu uno che lo invitò a perpetuare la specie. A questa inclinazione cieca, scompagnata da qualsiasi sentimento del cuore, non produceva che un atto puramente animale. Soddisfatto il bisogno, i due sessi non si conoscevano più, e anche il bambino non era più niente per sua madre, non appena poteva fare a meno di lei. Questa era la condizione dell'uomo al suo nascere. Questa era la vita di un animale che dapprima era limitato alle sole sensazioni e approfittava appena dei doni che la natura gli offriva. Ma presto sorsero delle difficoltà, che dovete imparare a vincere. L'altezza degli alberi che gli impediva di coglierne i frutti, la concorrenza degli animali che cercavano di nutrirsene, la ferocia di quelli che minacciavano la sua stessa vita. Tutte queste cose lo costrinsero ad applicarsi agli esercizi del corpo. Dovete diventare agile, veloce nella corsa, vigoroso in combattimento. Si trovò presto a portata di mano le armi naturali, che sono i rami degli alberi e le pietre. Imparò a superare gli ostacoli della natura, a combattere all'occorrenza con gli altri animali, a contendere il suo nutrimento agli stessi uomini o a trovare compenso di ciò che doveva cedere al più forte. A mano a mano che il genere umano si estendeva, con gli uomini aumentavano anche le pene. Le differenze dei terreni, dei climi, delle stagioni poterano costringerli a introdurre differenze anche nei loro modi di vivere. Annate sterili, inverni lunghi e rigidi, estati e riarse richiesero una nuova industria. Sulle rive dei mari e dei fiumi inventarono la lenza e l'amo e diventarono pescatori e ittiofagi. Nelle foreste costruirono archi e frecce e divennero guerrieri. Nei paesi freddi si coprirono delle pelli delle bestie che avevano uccise. Il tuono, il vulcano o qualche caso fortunato fece loro conoscere il fuoco, altre risorse contro il rigore dell'inverno. Impararono a conservare questo elemento, poi a riprodurlo e infine a cucinare con esso le carni che prima sollevano di vorare crude. Questa continua applicazione di esseri diversi a se stesso e degli uni agli altri dovette naturalmente generare nello spirito dell'uomo la percezione di certi rapporti. Quelle relazioni che esprimiamo con le parole grande, piccolo, forte, debole, veloce, lento, pauroso, coraggioso e altri simili, confrontate all'occorrenza e quasi senza pensarci, alla fine produssero in lui una specie di riflessione o piuttosto una prudenza meccanica che gli indicava le precauzioni più necessarie per la sua sicurezza. I nuovi lumi che risultarono da questo sviluppo aumentarono la sua superiorità sugli altri animali, facendogliela conoscere. Egli si esercitò a tendere loro trappole, a dar loro la caccia in mille modi e sebbene molti lo superassero in forza nel combattimento o in velocità nella corsa, egli col tempo divenne il padrone di quelli che potevano servirgli e il flagello di quelli che potevano nuocergli. In tal modo il primo sguardo che rivolse su se stesso vi produsse il primo moto di orgoglio ed è così che quando ancora durava fatica a distinguere i ranghi e a scorgere nel primo rangolo la sua specie si preparava a distanza a prendervi come individuo. I suoi simili, sebbene non fossero per lui quello che sono per noi e non avesse con loro rapporti maggiori di quanti ne avesse con gli altri animali, non furono dimenticati nelle sue osservazioni. Le somiglianze che col tempo pote scorgere fra loro, la sua femmina e se stesso gli fecero arguire quelle che non percepiva. E vedendo che essi in circostanze simili si comportavano tutti come avrebbe fatto lui, ne concluse che il loro modo di pensare e sentire era affatto simile al suo. Questa importante verità, ben fissata nella sua mente, gli fece seguire, in virtù di un presentimento altrettanto sicuro e più rapido della dialettica, le migliori regole di condotta che, a suo vantaggio e per sua sicurezza, gli conveniva osservare nei loro riguardi. Istruito dall'esperienza che l'amore del benessere è il solo muovente delle azioni umane, si trovò in grado di distinguere le rare occasioni in cui l'interesse comune gli permetteva di contare sull'aiuto dei suoi simili e quelle anche più rare in cui la concorrenza doveva farlo diffidare di loro. Nel primo caso, egli si univa con loro in gruppo, o tutt'al più in qualche forma di libera associazione che non obbligava nessuno e durava quanto il bisogno passeggero che l'aveva fatta nascere. Nel secondo, ognuno cercava di avvantaggiarsi, sia con la forza, se credeva di poterlo fare, sia con la furberia e l'intelligenza, quando si sentiva più debole. Ecco come gli uomini poterono insensibilmente acquistare qualche grossolana idea degli impegni reciproci e del vantaggio di rispettarli, ma soltanto nella misura che poteva esigerlo l'interesse attuale e sensibile. Infatti, per loro la previdenza non contava nulla e, lungi dal preoccuparsi di un avvenire remoto, non pensavano neppure al domani. Se si trattava di prendere un cervo, ognuno sentiva di dovere per questo stare fedelmente al suo posto, ma se una lepre veniva a passare davanti a uno di loro, non c'è dubbio che egli non la inseguisse senza scrupoli e, avendo preso la sua preda, si preoccupasse pochissimo di far perdere la loro ai suoi compagni, è facile capire che tali rapporti non richiedevano un linguaggio molto più raffinato di quello delle cornacchie o delle scimmie che si raggruppavano pressappoco nello stesso modo. Per molto tempo, gridi inarticolati, molti gesti e qualche rumore imitativo dovettero costituire la lingua universale. Aggiungendo a questa in ogni paese alcuni suoni articolati e convenzionali, di cui, come ho detto, non è facile spiegare l'istituzione, si ebbero le lingue particolari, ma grossolane, imperfette, quali pressappoco hanno ancora oggi diverse nazioni selvagge. Percorro come di volo molti secoli, costretto dal tempo che passa, dall'abbondanza delle cose che ho da dire e dal progresso quasi insensibile degli inizi. Infatti, più gli avvenimenti si sussedettero lentamente e più sono facili da descriversi. Finalmente, quei primi progressi posero l'uomo in grado di farne dei più rapidi. Più la mente si illuminava, più l'industria si perfezionava. Presto si cessò di addormentarsi presso il primo albero o di ritirarsi in caverne e si inventò qualche specie di accetta fatta di pietre dure e taglienti che servirono a tagliare della legna e a scavare la terra e a fare delle capane di frasche che poi in seguito si pensò di spalmare con argilla e fango. Quella fu l'epoca di una prima rivoluzione che diede origine all'istituzione e alla distinzione delle famiglie e introdusse una specie di proprietà, dal che forse nacquero già delle liti e dei combattimenti. Tuttavia, siccome probabilmente furono i più forti a fare degli alloggi che si sentivano in grado di difendere, è da credere che i più deboli trovassero più facile e più sicuro limitarli che il tentare di sloggiarli. E quanto a quelli che avevano già delle capanne, ognuno doveva preoccuparsi poco di impadronirsi di quella del vicino, non tanto perché non gli apparteneva, quanto perché gli era inutile e non poteva impadronirsene senza affrontare un combattimento molto accanito con la famiglia che lo occupava. I primi sviluppi del cuore furono effetto di una nuova situazione che riuniva in un'abitazione comune i mariti e le mogli, i padri e i figli. L'abitudine di vivere insieme fece nascere i sentimenti più dolci che siano conosciuti dagli uomini. L'abitudine di vivere insieme fece nascere i sentimenti più dolci che siano conosciuti dagli uomini, l'amore coniugale e l'amore paterno. Ogni famiglia diventò una piccola società, tanto meglio unite in quanto i soli legami ne erano l'affetto reciproco e la libertà. Fu allora che si stabilì la prima differenza nel modo di vivere dei due sessi, che fino ad allora erano vissuti nello stesso modo. Le donne divennero più sedentari e si abituarono ad accudire alla capanna e ai bambini, mentre l'uomo andava a cercare il cibo per tutti. I due sessi cominciarono anche, per effetto di una vita un po' più molle, a perdere qualche cosa della loro ferocia e del loro vigore. Ma anche se ognuno, preso separatamente, divenne meno adatto a combattere le bestie feroci, in compenso gli fu più facile associarsi ad altri per resistere loro insieme. In questo nuovo stato, con una vita semplice e solitaria, bisogni limitatissimi e gli strumenti che avevano inventato per provvedervi, gli uomini, che godevano di molto tempo libero, lo impiegarono a procurarsi parecchie specie di comodità sconosciute ai loro padri. E fu questo il primo gioco che si imposero senza pensarci e la prima fonte dei mali che prepararono ai loro discendenti. Infatti, oltre a continuare ad ammollirsi il corpo e lo spirito, con l'abitudine, queste comodità perdettero quasi tutto il loro piacere e nello stesso tempo degenerarono in veri e propri bisogni, sì che la privazione ne divenne assai più crudele di quanto ne fosse dolce il possesso e si era infelici perdendoli senza essere felici possedendoli. Qui si incomincia a intravedere un po' meglio come l'uso della parola si sia stabilito o si sia perfezionato a poco a poco nel seno di ogni famiglia. E si può anche congetturare come diverse cause particolari abbiano potuto estendere il linguaggio e accelerarne il progresso, rendendolo più necessario. Grandi inondazioni o terremoti circondarono d'acque o di precipizi dei cantoni abitati. Rivoluzioni del Globo distaccarono le divisioni in isole delle parti del continente. Si capisce come si sia dovuto formare un idioma comune fra questi uomini così riavvicinati e costretti a vivere insieme piuttosto che fra coloro che erravano liberamente nelle foreste della terraferma. Così pure è possibilissimo che in seguito ai loro primi tentativi di navigazione degli isolani abbiano portato fra noi l'uso della parola ed è perlomeno molto probabile che la società e le lingue siano nate nelle isole e vi siano perfezionate prima di venire conosciute sul continente. Tutto comincia a mutare aspetto. Gli uomini che fino ad allora avevano errato nei boschi avendo preso un assetto stabile si avvicinano a poco a poco si riuniscono in gruppi diversi e alla fine costituiscono in ogni contrada una nazione particolare unita nei costumi e nel carattere non per opera di regolamenti e di leggi ma per lo stesso genere di vite e di alimentazione e per l'influenza comune nel clima. Alla fine un vicinato permanente non può non produrre qualche legame fra le diverse famiglie. Giovani di sesso diverso abitano in capanne vicine. La relazione passeggera imposta dalla natura presto ne porta con sé un'altra non meno dolce e più permanente prodotta da frequentarsi abitualmente. Ci si abitua a considerare diversi oggetti e a fare dei confronti. A poco a poco si acquistano delle idee di merito e bellezza che producono sentimenti di preferenza. A forza di vedersi non si può fare a meno di vedersi di nuovo. Si insinua nell'animo un sentimento tenero e dolce che per la minima opposizione diviene furore impetuoso. Con l'amore si destra la gelosia trionfa la discordia e la più dolce delle passioni riceve sacrifici di sangue umano. A mano a mano che le idee e i sentimenti si succedono che l'intelletto e il cuore si esercitano il genere umano continua ad addomesticarsi. I legami si tendono e i lacci si chiudono. Nacque il costume di adunarsi davanti alle capanne o attorno a un grande albero. Il canto e la danza veri figli dell'amore e dell'ozio divendono il divertimento o meglio l'occupazione degli uomini e delle donne oziosi e riuniti. Ognuno cominciò a guardare gli altri e a voler essere guardato e la stima pubblica fu ricercata. Colui che cantava o danzava meglio il più bello il più forte il più destro o il più eloquente divenne quello che era tenuto più in considerazione e questo fu il primo passo verso la disuguaglianza e nello stesso tempo verso il vizio. Da queste prime preferenze nacquero da una parte la vanità e il disprezzo e dall'altra la vergogna e l'invidia e la fermentazione causata da questi nuovi lieviti produsse alla fine dei composti funesti alla felicità e all'innocenza. Non appena gli uomini ebbero cominciato a stimarsi a vicenda e si fu formata nella loro mente l'idea di stima ognuno pretese di avervi diritto e a nessuno fu più possibile farne a meno impunemente. Da ciò derivarono anche fra i selvaggi i primi doveri della civiltà ne derivò che ogni torto volontario divenne un oltraggio perché insieme al male derivante dall'ingiuria l'offeso si scorgeva il disprezzo per la sua persona spesso più insopportabile dello stesso male. Così poiché ognuno puniva il disprezzo che gli era stato testimoniato in proporzione della stima che aveva di se stesso le vendette divennero terribili e gli uomini sanguinari e crudeli. Questo è esattamente lo stadio a cui sono arrivati i popoli selvaggi che si sono noti. Per non avere distinto le idee e osservato quanto questi popoli fossero già lontani nel primitivo stato di natura molti hanno concluso frettolosamente che l'uomo è naturalmente crudele e che occorre la disciplina statale per addolcirlo. Mentre invece nulla è tanto dolce quanto l'uomo nello stato di natura quando collocato dalla natura a distanze uguali fra la stupidità dei bruti e l'intelligenza funesta dell'uomo civile è ugualmente portato tanto dall'istinto quanto dalla ragione a difendersi dal male che lo minaccia e gli è trattenuto dalla pietà naturale dal fare del male a chi che sia senza esservi portato da nulla neppure dal fatto di averne ricevuto. Infatti secondo la sioma del saggio Locke John Locke 1632-1704 filosofo inglese uno dei primi teorici del liberalismo del quale è derivato in gran parte il pensiero politico dell'illuminismo opere principali saggio sull'intelletto umano saggio sul governo civile non ci può essere ingiuria dove non c'è proprietà ma bisogna notare che una società già iniziata a delle relazioni già stabilite fra gli uomini esigevano che essi avessero qualità diverse da quelle derivanti dalla loro costituzione primitiva e che poiché cominciava a introdursi nelle azioni umane la moralità e ognuno prima che ci fossero le leggi era solo giudice e vendicatore delle offese che aveva ricevute la bontà che si conveniva al puro stato di natura non era più quella che si conveniva alla società nascente che era necessario che le punizioni diventassero più severe a mano a mano che le occasioni per offendere diventavano più frequenti e che il terrore delle vendette doveva tenere il posto del freno delle leggi così sebbene gli uomini fossero diventati più pazienti e la pietà naturale avesse già subito qualche inclinatura quel periodo di sviluppo delle facoltà umane che stava nel giusto mezzo fra l'indolenza dello stato primitivo e la petulante attività del nostro amor proprio dovette essere l'epoca più felice più duratura più ci si riflette più si trova che questo stato era almeno soggetto a rivoluzioni il migliore per l'uomo il quale non ne deve essere uscito che per qualche caso funesto il quale per il bene comune non sarebbe mai dovuto accadere l'esempio dei selvaggi che sono stati trovati quasi tutti a questo punto sembra confermare che il genere umano fosse fatto per restarvi sempre che questo stato è la vera giovinezza del mondo e che tutti i progressi ulteriori sono stati in apparenza altrettanti passi verso la perfezione dell'individuo ma in realtà verso la decrepitezza della specie finché gli uomini si accontentarono delle loro rustiche capanne finché si limitarono a cucire i loro abiti di pelli con spine o reste ad adornarsi con piume o conchiglie a dipingersi il corpo con diversi colori a perfezionare o ad abbellire i loro archi e le loro frecce a tagliare con pietra filate qualche canotto da pescatore o qualche grossolano strumento musicale insomma finché non si applicarono che a opere che uno solo poteva compiere e ad arti che non avevano bisogno del concorso di parecchie mani essi vissero liberi quanto potevano esserlo per natura e continuarono a godersi fra loro delle dolcezze di rapporti indipendenti ma dal momento che un uomo ebbe bisogno dell'aiuto di un altro dal momento che era utile a uno solo di aver provviste per due da quel momento l'uguaglianza disparve si introdusse la proprietà il lavoro divenne necessario e le vaste foreste si cambiarono in ridenti campagne che bisogna innaffiare col sudere degli uomini e nelle quali presto si videro germogliare e crescere con le messi la schiavitù e la miseria in questo punto fondamentale del discorso che in sostanza contiene la risposta al quesito Rousseau percorre Marx quest'ultimo infatti nei manoscritti economici filosofici del 1844 sostiene che la storia umana cioè quella che Rousseau chiama la civiltà ha inizio con la proprietà e la divisione del lavoro i quali determinano quella alienazione umana che Rousseau contrassegna come infelicità e depravazione che culmina nell'attuale società capitalistica nella forma di schiavitù dei molti ai pochi la metallurgia e l'agricoltura furono le due arti la cui invenzione produsse questa grande rivoluzione per il poeta sono l'oro e l'argento ma per il filosofo sono il ferro e il grano che hanno incivilito gli uomini e perduto il genere umano tanto l'uno che l'altro erano sconosciuti i selvaggi dell'America che appunto per questo sono sempre rimasti tali e anche gli altri popoli sembra che siano rimasti barbari finché hanno praticato una di queste arti senza l'altra e forse una delle migliori ragioni del fatto che l'Europa è stata se non più presto perlomeno più costantemente incivilita delle altre parti del mondo è che è insieme quella che più abbonda di ferro ed è più fertile di grano è difficile congetturare come gli uomini siano pervenuti a conoscere e usare il ferro infatti non è credibile che abbiano immaginato da soli di estrarre il materiale della miniera e prepararlo nel modo necessario per metterlo in fusione prima di sapere quello che ne sarebbe risultato d'altra parte è tanto meno possibile attribuire questa scoperta a qualche incendio casuale in quanto le miniere si formano soltanto in luoghi sterili e spogli da alberi di piante in modo che si direbbe che la natura avesse preso delle precauzioni per nasconderci quel fatale segreto non resta dunque altro che la circostanza straordinaria di qualche vulcano che eruttando materiali metallici fusi avrà suggerito agli osservatori l'idea di imitare quella operazione della natura e anche in questo caso bisogna supporre che avessero tanto coraggio e tanta previdenza per mettersi in un lavoro così faticoso e discernerne così di lontano i vantaggi che potevano ottarne il che non si addice che ha spiriti già più esercitati di quanto questi non potessero essere quanto all'agricoltura il suo principio fu conosciuto assai prima che se ne stabilisse la pratica e non è affatto possibile che gli uomini occupati continuamente a trarre i loro alimenti dagli alberi e dalle piante non avessero prestissimo l'idea delle vie seguite dalla natura per generare i vegetali ma probabilmente la loro industria non si volse che tardi da quel lato sia perché gli alberi che insieme alla caccia e alla pesca forniva loro il nutrimento non avevano bisogno delle loro cure sia perché non conoscevano l'uso del grano sia per la mancanza di strumenti per coltivarlo o perché non avevano previdenze dei bisogni futuri o finalmente perché non avevano mezzi per impedire agli altri di appropriarsi del frutto del loro lavoro una volta divenuti più industriosi si può credere che con pietra, guzze e bastoni appuntiti cominciassero a coltivare dei legumi e delle radici attorno alle loro capanne molto tempo prima che sapessero preparare il grano e avessero gli strumenti necessari per la coltivazione su vasta scala senza contare che per darsi a questa occupazione e seminare la terra occorre rassegnarsi a perdere da principio qualcosa per guadagnare molto in seguito precauzione molto estranea alla mentalità dell'uomo selvaggio che come ho detto fa fatica a pensare la mattina ai bisogni della sera dunque per costringere il genere umano a occuparsi dell'agricoltura fu necessaria l'invenzione delle altre arti da quando fu necessario avere uomini per fondere e forgiare il ferro ci fu bisogno di altri uomini per nutrire quelli più il numero degli operai venne moltiplicandosi meno mani ci furono per fornire il comune sostentamento senza però che ci fossero meno bocche a consumarlo e poiché agli uni occorrevano derrate in cambio del loro ferro gli altri trovarono alla fine il segreto di adoperare il ferro per moltiplicare le derrate di qui nacquero da un lato la aratura e l'agricoltura dall'altro l'arte di lavorare i metalli e moltiplicarne gli impieghi dalla coltivazione delle terre seguì necessariamente la divisione di essi e dalla proprietà una volta riconosciuta le prime regole di giustizia infatti perché si renda ciascuno il suo occorre che ciascuno possa avere qualche cosa infatti perché si renda ciascuno il suo occorre che ciascuno possa avere qualche cosa inoltre poiché gli uomini cominciavano a volgere gli sguardi all'avvenire e avevano tutti qualche bene da perdere non c'era nessuno che non dovesse temere per sé la rappresaglia di torti che avrebbe potuto fare ad altri questa origine è tanto più naturale in quanto è impossibile concepire che l'idea di proprietà nasca da altro che dall'idea di lavoro infatti non si vede che cosa per impadronirsi delle cose che non ha fatte l'uomo ci possa mettere di più che il suo lavoro è soltanto il lavoro che dà al coltivatore il diritto sul prodotto della terra che ha lavorato e di conseguenza sul fondo almeno fino all'epoca del raccolto e così di anno in anno il che costituendo un possesso continuato si trasforma facilmente in proprietà quando gli antichi dice Grozio hanno dato a Cerere l'epiteto di legislatrice e il nome di Tesmoforie Tesmoforia feste autunnali che si celebrano nella Grecia antica in onore della Dea Demetra Cerere Tesmoforos legislatrice per ringraziarla dell'assistenza prestata ai lavori agricoli a una festa celebrata in suo onore hanno significato con ciò che la divisione delle terre ha prodotto una nuova specie di diritto e cioè il diritto di proprietà differente da quello che risulta dalla legge naturale in questo stato le cose sarebbero potute restare uguali se le capacità fossero state uguali e per esempio l'uso del ferro e il consumo delle derrate si fossero sempre esattamente equilibrati ma una semplice proporzione che non era sorretta da nulla si ruppe ben presto il più forte lavorava di più il più destro traeva maggior rendimento dal suo lavoro il più ingegnoso trovava i mezzi per abbreviare il suo lavoro il contadino aveva più bisogno di ferro oppure il fabbro più bisogno di grano e lavorando ugualmente l'uno guadagnava molto mentre l'altro faceva fatica a vivere così la disuguaglianza naturale si dispiega insensibilmente per opera di quella prodotta dal caso e le differenze fra gli uomini sviluppate dalle circostanze divengono più sensibili i loro effetti più permanenti e cominciano proporzionalmente a influire sulla sorte degli individui una volta che le cose furono arrivate a questo punto è facile immaginarsi il resto non mi soffermerò a descrivere la successiva invenzione delle altre arti il progresso delle lingue il cimento e l'uso della capacità la disuguaglianza delle fortune l'uso o l'abuso delle ricchezze e nemmeno a descrivere tutte le cose particolari che seguono a queste che ognuno può facilmente immaginarsi mi limiterò soltanto a gettare un'occhiata sul genere umano situato in questo nuovo ordine di cose ecco dunque sviluppate tutte le nostre facoltà la memoria e l'immaginazione all'opera l'amor proprio interessato la ragione divenuta attiva e l'intelligenza arrivata quasi a quel limite di perfezione di cui è capace ecco messe in azione tutte le qualità naturali il grado e la sorte di ogni uomo stabiliti non soltanto sulla quantità di ricchezza e il potere di servire o di nuocere ma sull'intelligenza la bellezza la forza o l'astuzia sul merito o sulle capacità e poiché queste qualità sono le sole che possono destare la stima ben presto fu necessario o averle o simularle per il proprio tornaconto fu necessario mostrarsi diversi da quello che si era effettivamente essere e parere divennero due cose affatto diverse e da questa diversità ebbero origine il fasto che getta fumo negli occhi l'astuzia che inganna e tutti i vizi che li accompagnano d'altro lato l'uomo da libero e indipendente che era prima eccolo a causa di una quantità di nuovi bisogni ha servito per così dire a tutta la natura e soprattutto ai suoi simili di cui in un certo senso diventa schiavo anche quando ne diviene il padrone se è ricco ha bisogno dei loro servizi se è povero ha bisogno del loro soccorso e la mediocrità non lo mette affatto in condizione di fare a meno di loro bisogna dunque che cerchi continuamente di interessarli alla sua sorte di fare in modo che di fatto o in apparenza trovino il loro vantaggio nel lavorare per il suo il che lo rende imbroglione e artificioso con gli uni imperioso e duro con gli altri e lo mette nella necessità di ingannare tutti i colori di cui ha bisogno quando non può farsi temere da loro e non trova il suo interesse nel servirle utilmente e infine l'ambizione divorante l'intenso desiderio di elevare la propria condizione non tanto per un vero bisogno quanto per mettersi al di sopra degli altri ispira a tutti gli uomini una triste inclinazione a nuocersi a vicenda una segreta gelosia tanto più dannosa in quanto per agire con più sicurezza si mette spesso la maschera della benevolenza insomma concorrenza e rivalità da una parte dall'altro opposizione di interessi e sempre il desiderio nascosto di fare il proprio vantaggio a danno degli altri tutti questi mali sono il primo effetto della proprietà e l'inseparabile accompagnamento della nascente disuguaglianza prima che se ne fossero inventati segni rappresentativi le ricchezze non potevano consistere che in terreni e bestiame i soli beni reali che gli uomini potessero possedere ma quando i patrimoni si furono accresciuti di numeri e di estensione fino al punto di coprire tutto quanto il suolo e di toccarsi gli uni con gli altri gli uni non poterono più ingrandirsi se non a spese degli altri e coloro che restarono in soprannumero ai quali la debolezza o la pigrizia avevano impedito di acquistarne anch'essi divenuti poveri senza aver nulla perduto per il solo fatto che mentre attorno a loro tutto mutava essi soli non avevano cambiato furono costretti a ricevere o a rubare il loro sostentamento dalle mani dei ricchi e da ciò cominciarono a nascere secondo i diversi caratteri degli uni e degli altri la dominazione e la servitù oppure la violenza e le rapine i ricchi dal canto loro non appena conobbero il piacere di dominare disprezzarono tutti gli altri e servendosi degli schiavi che avevano già per sottometterne dei nuovi non pensarono che a soggiogare e a servire i loro vicini simili a quei lupi affamati che avendo una volta gustato la carne umana sdegnano qualunque altro nutrimento e vogliono soltanto divorare uomini fu così che poiché i più potenti o i più miserabili facevano della loro forza e dei loro bisogni una specie di diritto sul bene altrui equivalente secondo loro a quello di proprietà la rottura dell'uguaglianza fu seguita dal più orribile disordine fu così che le usurpazioni dei ricchi il brigantaggio dei poveri lo sfrenarsi delle passioni di tutti soffocando la pietà naturale e la voce ancora debole della giustizia resero gli uomini avari ambiziosi e cattivi fra il diritto del più forte e il diritto del primo occupante sorse un conflitto perpetuo che finiva soltanto con i combattimenti e le uccisioni la nascente società cedette il posto al più orribile stato di guerra il genere umano avvilito ed esolato non poteva tornare indietro né rinunciare alle disgraziate conquiste che aveva fatte e con l'abuso delle facoltà che lo onorano lavorava soltanto la sua vergogna cosicché si portò da solo alla vigilia della propria rovina attonitus novitate mali di vesque miresque e fuggere opta topes et quaemodo voverat audit stupito dalla novità del male ricco e misero cerca di sfuggire alle ricchezze e quelle cose che prima desiderava ora le odia publio uvidio nasone 43 avanti cristo 16 dopo cristo poeta latino autore fra l'altro della metamorfosi non è possibile che alla fine gli uomini non abbiano fatto delle riflessioni intorno a una situazione così miserabile e sulle calamità da cui erano afflitti soprattutto i ricchi dovettero sentire quanto fosse loro svantaggioso una guerra perpetua in cui essi soli pagavano tutte le spese e in cui tutti rischiavano la vita ed essi soli i beni d'altra parte qualsiasi colore potessero dare alle loro usurpazioni si accorgevano abbastanza bene che il diritto su cui esse venivano fondate era precario e abusivo e che essendo state quelle acquistate solo con la forza la forza poteva togliergliele senza che avessero ragione di reclamare anche loro che si erano arricchiti con la sola industria non potevano affatto fondare la loro proprietà su titoli migliori essi avevano un bel dire sono io che ho costruito questo muro questo terreno l'ho guadagnato col mio lavoro si poteva loro rispondere chi vi ha dato gli allineamenti ed in virtù di che volete essere pagati a nostre spese di un lavoro che non vi abbiamo imposto ignorate dunque che una moltitudine di vostri fratelli perisce o soffre per la mancanza di ciò che voi avete di troppo e che vi sarebbe occorso un consenso esplicito e unanime di tutto il genere umano per appropriarvi tutto ciò che dei mezzi di sussistenza comune sorpassava la vostra sussistenza privo di ragioni valevoli per giustificarsi e di forze sufficienti per difendersi in grado di sopraffare facilmente un singolo individuo ma sopraffatto a sua volta da gruppi di banditi solo contro tutti senza potere a causa delle vicendevoli gelosie unirsi ai suoi pari contro i nemici uniti dalla comune speranza del saccheggio il ricco spinto dalla necessità alla fine ideò il progetto più meditato di quanti siano mai stati nell'intelletto umano e fu di usare a suo vantaggio le forze stesse di coloro che lo assalivano di trasformare i suoi avversari in suoi difensori di ispirare loro delle altre massime e di dare loro delle altre istituzioni che gli fossero altrettanto favorevoli quanto il diritto naturale gli era contrario a questo scopo dopo aver esposto ai suoi vicini l'orrore di una situazione che li armava tutti gli uni contro gli altri e che rendeva i loro possesse altrettanto onerosi dei loro bisogni in cui nessuno trovava la sicurezza né nella povertà né nella ricchezza egli inventò facilmente delle ragioni speciose per tirarli al suo scopo uniamoci disse loro per garantire i deboli dall'oppressione per contenere gli ambiziosi e assicurare a ognuno il possesso di ciò che gli appartiene istituiamo dei regolamenti di giustizia e di pace a cui tutti siano obbligati a uniformarsi che non facciano eccezione per nessuno e che in qualche modo pongano rimedio ai capricci della fortuna sottomettendo ugualmente il forte e il debole a doveri reciproci il russo mette in rilevo come la trasformazione dell'uguaglianza naturale in uguaglianza giuridica e politica sancisca la disuguaglianza reale ossia la disuguaglianza economica e la rende stabile e irrimediabile l'idea che lo stato sia in realtà un'associazione dei ricchi a danno dei poveri per la difesa dei privilegi dei primi si trova già nell'utopia di Tommaso Moro 1480-1535 e nei principali di una scienza nuova di Gian Battista Vico 1668-1744 in breve invece di volgere le nostre forze contro noi stessi uniamoli in un potere supremo che ci governi secondo sane leggi che protegga e difenda tutti i membri dell'associazione sconfighe i nemici comuni e ci tenga in una perpetua concordia ci sarebbe voluto molto meno di un equivalente di questo discorso per trascinare uomini grossolani facile essere sedotti e che d'altra parte avevano troppo faccenda da sbrigare fra di loro per poter fare a meno di padroni per molto tempo tutti corsero incontro alle loro catene credendo di assicurarsi la libertà perché essendo già abbastanza dotati di ragione per percepire i vantaggi di un'istituzione politica non avevano abbastanza esperienza per prevederni i pericoli i più capaci di presentire gli abusi erano proprio quelli che contavano di approfittarne e anche i saggi videro che era necessario decidersi a sacrificare una parte della propria libertà nello stesso modo che un ferito si fa tagliare un braccio per salvare il resto del corpo questa fu o dovette essere l'origine della società e delle leggi che diedero nuove pastoie al debole e nuova forza al ricco distrussero irrimediabilmente la libertà naturale stabilirono per sempre la legge della proprietà e della disuguaglianza di un'abile usurpazione fecero un diritto irrevocabile e per il profitto di alcuni ambiziosi assoggettarono per sempre il genere umano al lavoro alla servitù e alla miseria si scorge facilmente come l'istituzione di una sola società abbia resa indispensabile l'istituzione di tutte le altre e come per far fronte a delle forze riunite fosse necessario unirsi le società moltiplicandosi ed estendendosi rapidamente presto coprirono tutta la superficie della terra e non fu più possibile trovare in tutto l'universo un angolo in cui ci si potesse liberare dal gioco e sottrarre la testa alla spada spesso male maneggiata che ogni uomo vide perpetuamente sospesa sul proprio capo e poiché il diritto civile era divenuto la norma comune dei cittadini la legge di natura non ebbe più vigore che fra le società in cui sotto il nome di diritto delle genti fu temperata da alcune convenzioni tacite aventi lo scopo di rendere possibile il commercio e di supplire alla pietà naturale che perdendo nei rapporti di una società con l'altra quasi tutta la forza che aveva nei rapporti da uomo a uomo non si trova più che in alcune grandi anime cosmopolite le quali oltrepassano le barriere che separano i popoli e a somiglianza dell'essere sovrano che le ha create comprendono tutto il genere umano nel loro amore i corpi politici dunque che rimanevano gli uni rispetto agli altri nello stato di natura risentirono ben presto degli inconvenienti che avevano costretto gli individui a uscirne e quello stato fu ancora più funesto nei rapporti di quei grandi corpi di quanto lo fosse prima per gli individui di cui essi erano composti ne nacquero le guerre nazionali le battaglie le uccisioni le rappresaglie che fanno fremmere la natura e urtano la ragione e tutti quegli orribili pregiudizi che collocano nel novero delle virtù l'onore di spargere sangue umano le persone oneste impararono a contare fra i loro doveri quello di trucidare i propri simili alla fine si videro gli uomini massacrarsi a migliaia senza sapere il perché e si facevano più uccisioni in una sola giornata di battaglia e più orrori nella presa di una sola città di quanti se ne fossero commessi nello stato di natura per secoli e secoli su tutta quanta la faccia della terra questi furono i primi effetti che si incominciarono a intravedere nella divisione del genere umano nelle diverse società ritorniamo alla loro istituzione so che parecchi hanno attribuito altre ragioni alle società politiche come per esempio le conquiste del più potente o l'unione dei deboli la scelta fra queste cause non ha importanza rispetto a quello che voglio assodare tuttavia quella che ho esposta mi sembra la più naturale per le ragioni seguenti 1 che nel primo caso poiché il diritto di conquista non è affatto un diritto esso non ha potuto costituire il fondamento di nessun altro restando sempre e il conquistatore e i popoli conquistati in un reciproco stato di guerra a meno che la nazione rimessa in piena libertà non scelga volontariamente il suo vincitore per capo prima di ciò qualsiasi trattato sia stato fatto siccome fondato soltanto sulla violenza di conseguenza è di per sé nullo non ci può essere in questa ipotesi né vera società né corpo politico né altra legge che quella del più forte è questo uno dei punti essenziali del pensiero politico di Rousseau essenziale per comprendere la sua teoria contrattualistica che il rapporto di forza è sempre uno stato di guerra aperto o latente e perciò su di esso non si può fondare alcun diritto in altri termini il diritto in quanto rapporto morale non può fondarsi che sulla libera decisione di una volontà libera due che nel secondo caso le parole forte e debole sono equivoche perché nell'intervallo che passa fra l'istituzione del diritto di proprietà o del primo occupante e quella dei governi politici il senso di questi termini è significato meglio dalle parole povero e ricco perché di fatto un uomo prima che esistessero le reggi non aveva altro mezzo di assoggettare i suoi uguali che quello o di assalire i loro averi o di far loro parte dei suoi tre che siccome i poveri non avevano da perdere che la loro libertà sarebbe stata una grande follia il togliersi volontariamente il solo bene che rimanesse loro per non guadagnare nulla in cambio mentre al contrario poiché i ricchi erano per così dire vulnerabili in tutte le parti dei loro averi era molto più facile far loro del male e quindi dovevano di conseguenza usare maggiore precauzione per difendersene e finalmente che è ragionevole credere che una cosa sia stata inventata da coloro cui è utile piuttosto che da coloro a cui fa danno al suo nascere il governo non ebbe affatto una forma costante regolare la mancanza di filosofia e di esperienza non permetteva di scorgere che gli inconvenienti del momento e si pensava a rimediare agli altri soltanto a mano a mano che si presentavano malgrado tutte le fatiche dei più sapienti legislatori lo stato politico rimane sempre imperfetto poiché era quasi opera del caso ed essendo cominciato male il tempo scoprendono i difetti e suggerendono i rimedi non si poté mai rimediare i vizi della costituzione si mettevano sempre delle toppe mentre invece sarebbe stato necessario cominciare a pulire l'arca e scartare tutti i vecchi materiali come fece Licurgo a Sparta per poi inalzare un buon edificio da principio la società consisteva soltanto di alcune convenzioni generali che tutti gli individui si impegnavano a rispettare e di cui la comunità si faceva garante nei riguardi di ogni singolo fu necessario che la legge fosse elusa in mille modi che gli inconvenienti e i disordini si moltiplicassero continuamente perché alla fine si pensasse di affidare agli individui il pericoloso fardello dell'autorità pubblica e si commettesse a dei magistrati la cura di far osservare le deliberazioni del popolo infatti chi dice che i capi furono scelti prima che fosse fatta la consociazione e che i ministri delle leggi esistevano prima ancora delle leggi fa una supposizione che non si può prendere sul serio e non sarebbe più ragionevole il supporre che i popoli si fossero gettati nelle braccia di un padrone assoluto senza condizioni e senza possibilità di tornare indietro e che il primo mezzo di provvedere alla sicurezza comune immaginato da uomini fieri e indomiti sia stato quello di precipitarsi nella schiavitù qui Rousseau critica la teoria esposta da Thomas Hobbes nel Levietano di fatto perché altro si sono dati dei superiori se non per difenderli contro l'oppressione e proteggere i loro averi e le loro vite che sono per così dire elementi costitutivi del loro essere ora poiché delle relazioni fra uomo e uomo la peggior cosa che possa succedere a uno è di vedersi in balia di un altro non sarebbe stato contrario al buon senso il cominciare col privarsi deponendole nelle sue mani delle sole cose la cui conservazione rendesse loro necessario l'aiuto di un capo quale equivalente quest'ultimo avrebbe potuto offrire in cambio della connessione in un si bel diritto e se avesse ardito chiederla con il pretesto della loro difesa non avrebbe avuto risposta che il motto che ci potrà fare di peggio il nemico è dunque incontestabile ed è la massima fondamentale di tutto il diritto politico che i popoli si sono dati dei capi per difendere la loro libertà e non per asservirla se abbiamo un principe diceva Plinio Atraiano è perché ci salva dall'avere un padrone sull'amore della libertà i politici fanno gli stessi sofismi che i filosofi hanno fatto sul stato di natura dalle cose che vedono giudicano di cose differentissime che non hanno viste e attribuiscono agli uomini un'inclinazione naturale alla servitù fondandosi sulla pazienza con cui quegli uomini che hanno sott'occhio sopportano la loro senza pensare che con la libertà succede come con l'innocenza e la virtù di cui si sente il valore fin quando si hanno e se ne perde il gusto appena si sono perdute io conosco i piaceri del tuo paese diceva Brasida a un satrapo che confrontava la vita di Sparta con quella di Persepoli ma tu non puoi conoscere i piaceri del mio come un cavallo indomento alla sola vista del morso rizza i crini batte la terra con i piedi e si dibatte furiosamente mentre invece un cavallo domato sopporta pazientemente la frusta e lo sperone così l'uomo barbaro non piega la testa al gioco che l'uomo civile porta senza protestare e preferisce la libertà più tempestosa a una tranquilla soggezione non è dunque dall'avvilimento dei popoli asserviti che bisogna giudicare dalle disposizioni naturali dell'uomo verso la servitù ma dai prodigi che hanno fatto tutti i popoli liberi per garantirsi dall'oppressione so che i primi vantano continuamente la pace e la quiete di cui godono nelle loro catene e che miserrimam servitutem pacem appellant chiamano pace una miseranda schiavitù Tacito Hist IV 17 Publio Cornelio Tacito 55 120 d.C grande storico latino autore degli annali e delle storie di una vita di agricola e della Germania ma quando vedo gli altri sacrificare i piaceri la quiete la ricchezza la potenza la vita stessa per conservare quel solo bene che è tanto disprezzato da coloro che l'hanno perduto quando vedo degli animali nati liberi che odono la cattività e che si rompono la testa contro le sbarre della loro prigione quando vedo turbi di selvaggi nudi spregiare i piaceri europei e sfidare la fame il fuoco il ferro e la morte pur di conservare soltanto la loro indipendenza sento che non spetta a schiavi il parlare di libertà quando l'autorità paterna da cui molti hanno fatto derivare il governo assoluto allude all'inglese Sir Robert Filmer che nel Patriarca 1680 sostene l'assolutismo ponendo a base della sua dottrina l'idea che i monarchi derivano il loro potere per discendenza diretta dai primi padri i patriarchi i quali avevano poteri assoluti sui figli e tutta quanta la società senza ricorrere alle prove contrarie di Locke e di Sidney basta osservare che nulla al mondo è più lontano dallo spirito del dispotismo della dolcezza di questa autorità la quale ha più cura del vantaggio di chi obbedisce che non dell'utilità di chi comanda che per legge di natura il padre non è il padrone del figlio se non per il tempo che ha quest'ultimo necessario il suo aiuto e dopo questo termine essi divengono uguali e allora il figlio del tutto indipendente dal padre gli deve sì rispetto ma non obbedienza poiché la riconoscenza è certo un dovere cui bisogna adempiere ma non un diritto che si possa esigere invece di dire che la società civile deriva dal potere paterno bisognerebbe dire al contrario che è da quella che questo potere deriva la sua forza principale un individuo non fu riconosciuto da molti come padre se non quando questi rimasero riuniti intorno a lui i beni del padre di cui egli è realmente padrone sono i legami che trattengono i figli alle sue dipendenze ed egli non può far loro parte della sua eredità se non in proporzione che avranno ben meritato di lui con una continua deferenza alle sue volontà ora i sudditi ben lungi dal poter aspettare qualche favore del genere dal loro despota giacché gli appartengono in proprio loro con tutto quello che posseggono o almeno egli lo pretende sono ridotti a ricevere come una grazia ciò che egli lascia loro delle loro stesse ricchezze sì che il despota fa giustizia quando li spoglia e fa grazia quando li lascia vivere continuando in tal modo a esaminare i fatti secondo il diritto non si troveranno né solidità né verità nella dottrina dello stabilimento volontario della tirannide e sarebbe difficile dimostrare la validità di un contratto che obbligasse soltanto una delle due parti nel quale si mettesse tutto da una parte e niente dall'altra e tornasse soltanto a danno di colui che vi si obbligasse questo odioso sistema è ben lontano dall'essere anche oggi quello dei saggi e i buoni monarchi come si può scorgere in diversi luoghi dei loro editti e in particolare nel seguente passo di un celebre scritto pubblicato nel 1667 in nome per ordine di Luigi XIV non si dica che il sovrano non è soggetto alle leggi del suo stato poiché la proposizione contraria è una verità del diritto delle genti verità che l'adulazione ha qualche volta attaccata ma che i buoni principi hanno sempre difesa come un nome tutelare dei loro stati quanto è più giusto dire con il saggio Platone che la perfetta felicità di un regno è che il principe sia obbedito dai suoi sudditi che il principe obbedisca alla legge e che questa sia giusta e diretta sempre al pubblico bene 1667 Luigi XIV 1638 1715 detto il re sole non mi induggerò a ricercare se essendo la libertà la più nobile delle facoltà umane il rinunciare senza riserva al più prezioso di tutti i doni e rassegnarsi a commettere tutti i delitti che esso ci proibisce per compiacere a un padrone feroce o insensato non equivalga a degradare la nostra natura a metterci al livello delle bestie schiave dell'istinto persino a offendere l'autore del nostro essere e se questo sublime artefice debba essere più irritato di vedere distruggere che di vedere disonorare la sua più bella opera se così piace trascurerò l'autorità di Baba Iraq il quale seguendo Locke dichiara che nessuno può vendere la propria libertà fino a sottomettersi a un potere arbitrario che lo tratti come gli salta in mente giacché egli aggiunge ciò sarebbe come vendere la propria vita di cui non siamo padroni domanderò soltanto con quale diritto coloro che non hanno esitato ad avvilire se stessi fino a questo punto abbiano potuto assoggettare i propri posteri alla stessa ignominia rinunciando a nome loro a dei beni che questi non derivano dalla loro generosità e senza i quali la vita stessa è un peso a tutti coloro che ne sono degni pudendorf dice che come si trasferiscono come si trasferiscono ad altri i propri averi mediante convenzioni e contratti così ci si può anche privare della libertà in favore di qualcuno questo mi sembra è un pessimo ragionamento infatti in primo luogo il bene che alieno mi diventa una cosa affatto estranea e il cui abuso mi è indifferente mentre mi importa che non si abusi della mia libertà e non posso senza rendermi colpevole del male che mi si costringerà a fare mettermi nel rischio di diventare lo strumento del delitto inoltre poiché il diritto di proprietà è soltanto di convenzione e istituzione umana ogni uomo può disporre al suo piacimento di ciò che possiede ma non è lo stesso per i doni essenziali della natura come la vita e la libertà di cui è permesso a ognuno di fruire e di cui è perlomeno dubbio che si abbia il diritto di privarsi togliendosi questa si degrada il proprio essere togliendosi quella lo si distrugge almeno per quanto dipende da noi e siccome nessun bene temporale può risarcirci dall'una e dall'altra sarebbe offesa alla natura e alla ragione insieme il rinunciarvi per qualunque prezzo ma quando si potesse alienare la propria libertà come si fa dei propri beni la differenza sarebbe grandissima per i figli i quali godono dei beni del padre solo in virtù dell'eredità dei suoi diritti mentre la libertà è un dono che ricevono dalla natura e quindi i loro genitori non hanno alcun diritto di privarneli in modo che come per stabilire la schiavitù è stato necessario fare violenza alla natura così per perpetuare questo diritto è stato necessario mutare la natura stessa e i giure consulti che hanno gravemente sentenziato che il figlio di uno schiavo nasce schiavo hanno deciso in altri termini che un uomo non nasce uomo dunque mi sembra certo non soltanto che i governi non sono cominciati con il potere arbitrario il quale non è altro che la corruzione il termine estremo che finisce per ricondurli a quella legge del più forte di cui in origine furono il rimedio ma anche che seppure fossero cominciati così quel potere essendo per sua natura illegittimo non è potuto servire di base né alle leggi della società né di conseguenza alla disuguaglianza istituzionale senza entrare ora in ricerche che sono ancora da farsi sulla natura del patto fondamentale di ogni governo mi limito seguendo l'opinione comune a considerare qui l'istituzione del corpo politico come un vero contratto fra il popolo e i capi che egli si sceglie contratto in virtù del quale le due parti si obbligano all'osservanza delle leggi che vi sono stipulate e che costituiscono i legami della loro unione e siccome il popolo ha per quanto riguarda le relazioni sociali riunite tutte le sue volontà in una sola tutti gli articoli su cui questa volontà si esprime divengono altrettante leggi fondamentali che obbligano tutti quanti i membri dello Stato senza eccezione una di esse regola la scelta è il potere dei magistrati incaricati di vegliare all'esecuzione delle altre questo potere si estende a tutto ciò che può salvaguardare la Costituzione senza arrivare però fino al potere di mutarla vi si aggiungono degli onori che rendono rispettabili le leggi e i loro ministri e per questi ultimi delle prerogative che li compensano del lavoro faticoso che costa una buona amministrazione il magistrato da parte sua si obbliga a non usare il potere che gli ha affidato che secondo le intenzioni di coloro che gli hanno commesso a mantenere ciascuno nel pacifico godimento di ciò che gli appartiene e a preferire in ogni occasione la pubblica utilità al proprio interesse prima che l'esperienza avesse mostrato o che la conoscenza del cuore umano avesse fatto prevedere gli abusi inevitabili di una tale Costituzione essa dovette sembrare la migliore in quanto coloro che erano incaricati della sua conservazione vi erano i più interessati perché essendo la magistratura e i suoi diritti fondati soltanto sulle leggi fondamentali non appena queste fossero state distrutte i magistrati avrebbero cessato di essere legittimi e il popolo non sarebbe stato più tenuto a obbedire loro e siccome non era il magistrato ma la legge quella che costituiva l'essenza dello Stato ognuno sarebbe di diritto ritornato alla sua libertà naturale per poco che vi si riflettesse attentamente ciò sarebbe confermato da nuove ragioni e guardando la natura del contratto si vedrebbe che quest'ultimo non potrebbe essere irrevocabile infatti se non ci fosse alcun potere superiore che si facesse garante della lealtà dei contraenti e li costringesse a soddisfare i loro obblighi reciproci le parti resterebbero i soli giudici delle loro stesse controverse e ognuna di esse avrebbe sempre il diritto di rinunciare al contratto non appena si accorgesse che l'altra ne infrange le condizioni oppure queste ultime cessassero di convenirle sembra che il diritto di abdicare si possa fondare su questo principio ora per non considerare come facciamo noi che l'istituzione umana se il magistrato che ha tutto il potere nelle sue mani e si ha proprio di tutti i vantaggi del contratto avesse tuttavia il diritto di rinunciare all'autorità a più forte ragione il popolo che paga per tutti gli sbagli dei capi dovrebbe avere il diritto di rinunciare alla dipendenza ma gli orribili dissensi gli infiniti disordini che questo pericoloso potere porterebbe con sé mostrano più di un'altra cosa come i governi umani abbiano bisogno di una base più solida che non la semplice ragione e come fosse necessario alla pace pubblica che la volontà divina intervenisse per dare all'autorità sovrana un carattere sacro e inviolabile che togliesse ai sudditi il funesto diritto di disporne se la religione non avesse fatto altro bene agli uomini questo già sarebbe sufficiente perché tutti gli uomini dovessero amarle e adottarla anche con i suoi abusi perché risparmia anche più sangue di quanto il fanatismo ne faccia versare ma seguiamo il filo della nostra ipotesi cioè il diritto di natura e l'esame razionale di esso implica necessariamente il diritto del popolo di fare la rivoluzione ossia di mutare il governo quando quello che ha infrangi il patto politico e volgi i poteri dello stato a proprio vantaggio anziché al bene pubblico questo diritto invece non sussiste più se si ammette il principio teologico dell'origine divina del potere del governo formulato da Sant'Ommaso con l'aforisma di San Paolo ogni potere deriva da Dio l'applicazione di un tale principio evita i disordini e gli orrori delle guerre civili ma garantisce la libertà e l'uguaglianza Rousseau deve evitare il più possibile la censura politica ed ecclesiastica perciò tira via ritornando alla sua trattazione puramente razionale che implicitamente rispinge i principi teologici dell'origine divina del potere dei re le diverse forme di governo traggono origine dalle differenze più o meno grandi che esistevano fra gli individui al momento dell'istituzione se c'era un uomo eminente per potenza per virtù per le ricchezze o il credito fu eletto unico magistrato e lo stato divenne monarchico se a poco a poco parecchi fra loro uguali ebbero la prevalenza su tutti gli altri furono letti insieme e ci fu un'aristocrazia coloro la cui ricchezza o le cui capacità erano meno sproporzionate si erano meno allontanati dallo stato di natura mantennero insieme l'amministrazione comune e formarono una democrazia coloro la cui ricchezza o le cui capacità erano meno sproporzionate e si erano meno allontanati dallo stato di natura mantennero insieme l'amministrazione comune e formarono una democrazia il tempo mostrò quale delle forme fosse la più vantaggiosa per gli uomini questi ultimi restarono sottomessi soltanto alle leggi gli altri ben presto obbedirono a dei padroni i cittadini volero conservare la loro libertà i sudditi pensarono soltanto a toglierla ai loro vicini non potendo tollerare che altri godessero di un bene di cui essi non godevano in una parola da un lato ci furono le ricchezze e le conquiste dall'altro la felicità e la virtù in questi differenti governi tutte le magistrature furono da prime elettive e quando la ricchezza non aveva il sopravvento la preferenza era accordata al merito che conferisce un ascendente naturale e all'età che dà l'esperienza negli affari e la calma nelle deliberazioni gli anziani presso gli ebrei i geronti di Sparta il senato di Roma e la stessa etimologia della nostra parola signore dal latino signor più vecchio mostrano quanto in altri tempi la vecchiaia fosse rispettata più le elezioni sceglievano uomini di età avanzata più divenivano frequenti e più se ne facevano sentire gli inconvenienti cominciarono le beghe si formarono le fazioni si acquirono le rivalità dei partiti si accesero le guerre civili e alla fine il sangue dei cittadini fu sacrificato a una pretesa felicità dello Stato e si fu vicino a ricadere nell'anarchia dei tempi precedenti l'ambizione degli ottimati approfittò di tali circostanze per perpetuare le loro cariche nelle loro famiglie il popolo avvezzo a dipendere avvezzo alla pace ai comodi della vita e oramai incapace di spezzare le sue catene per assicurarsi la tranquillità lasciò che la sua servitù aumentasse e così i capi divenuti ereditari si abituarono a considerare la magistratura come un patrimonio di famiglia a considerare se stessi da prima non erano statiche dei funzionari a chiamare schiavi i loro concittadini a contarli come si fa col bestiame nel numero delle cose che appartenevano loro a chiamare se stessi uguali agli dèi e re dei re se seguiremo il progresso della disuguaglianza in queste differenti rivoluzioni troveremo che l'istituzione della legge e del diritto di proprietà ne fu il primo momento l'istituzione della magistratura il secondo e il terzo e ultimo fu il mutamento del potere da legittimo in arbitrario in modo che la prima epoca sancì lo stato di ricco e di povero la seconda di potente e di debole e la terza quello di padrone e di schiavo che è l'ultimo grado di disuguaglianza e l'estremo in cui finiscono tutti gli altri fino a quando nuove rivoluzioni dissolvono completamente il governo e lo riportano all'istituzione legittima per comprendere la necessità di questa evoluzione non bisogna al tanto considerare i motivi della fondazione del corpo politico quanto la forma che esso prende nella sua esecuzione e gli inconvenienti che trascina con sé infatti i vizi che rendono necessari le istituzioni sociali sono anche quelli che ne rendono inevitabile l'abuso e siccome eccettuato soltanto Sparta in cui la legge vigilava soprattutto sull'educazione dei figli e nelle quali Licurgo stabilì dei costumi che rendevano quasi superfluo aggiungervi delle leggi le leggi che in generale sono meno forti delle passioni frenano gli uomini senza cambiarli sarebbe facile provare che un governo il quale funzionasse sempre secondo il fine della sua istituzione senza corrompersi o alterarsi sarebbe stato istituito senza necessità e che un paese in cui nessuno ludesse le leggi e non abusasse della magistratura non avrebbe bisogno né di magistrati né di leggi le distinzioni politiche producono necessariamente delle distinzioni civili la disuguaglianza crescente fra il popolo e i capi presto si fa sentire anche fra gli individui e vi si modifica in mille modi secondo le passioni i caratteri e le circostanze un magistrato non potrebbe usurpare un potere illegittimo senza farsi dei partigiani ai quali è costretto a cederne qualche parte d'altra parte i cittadini non si lasciano opprimere se non in quanto sono trascinati da una cieca ambizione e poiché guardano più a ciò che sta sotto di loro che a ciò che sta sopra la dominazione diviene loro più cara dell'indipendenza e acconsentono a portare delle catene per poter a loro volta incatenare è difficilissimo ridurre all'obbedienza chi non cerca a sua volta di comandare e anche il più abile politicante non riuscirebbe mai ad assoggettare degli uomini i quali volessero soltanto essere liberi invece la disuguaglianza si diffonde senza fatica fra le anime ambiziose e vili sempre pronte a tentare la fortuna o a servire quasi indifferentemente a seconda che la fortuna è loro favorevole o contraria così dovete venire un tempo in cui gli occhi del popolo furono offuscati al punto che coloro che lo conducevano non ebbero che a dire al più piccolo degli uomini si grande tu e tutta la tua stirpe che subito gli apparve a tutti grande quanto ai propri occhi e i suoi discendenti si innalzarono ancora di più a mano a mano che si allontanavano nel tempo da lui più la causa era lontana e incerta più l'effetto aumentava più fanuloni si potevano annoverare in una famiglia e più questa diventava illustre se qui fosse il caso di addentrarsi in particolari spiegherei facilmente come anche se il governo non vi si immischia diventa inevitabile la disuguaglianza di credito e di autorità fra gli individui non appena che essi riuniti in una stessa società sono costretti a confrontarsi fra di loro e a tenere conto delle differenze che trovano nei rapporti continui che devono avere gli uni con gli altri tali differenze sono di diverse specie ma siccome in generale le distinzioni principali mediante cui ci si misura nella società sono la ricchezza la nobiltà o il grado la potenza e il merito personale potrei dimostrare che l'accordo o il conflitto fra queste diverse forze è l'indice più sicuro che uno stato è bene o male costituito potrei far vedere che fra queste quattro specie di disuguaglianza le qualità personali sono l'origine di tutte le altre e la ricchezza è l'ultima a cui tutte alla fine si riducono perché essendo quella che è più immediatamente utile e la più facile a comunicarsi di essa ci si serve facilmente per comperare tutto il resto osservazione che può far agevolmente stimare in quale misura ogni popolo si sia allontanato dalla sua istituzione primitiva e quanta strada abbia già fatta verso il termine estremo della corruzione potrei osservare quanto questo desiderio universale di reputazione di onori e distinzioni che ci divora tutti eserciti e metta in paragone le capacità e le forze quanto ecciti e moltipliche le passioni e quanto facevo di tutti gli uomini dei concorrenti dei rivali o addirittura dei nemici provochi tutti i giorni dei rovesci degli incidenti e delle catastrofi di tutti i generi mettendo in lizza tanti pretendenti mostrerei come a questo ardente desiderio di far parlare di sé a questa furia di distinguerci che ci tiene quasi sempre fuori di noi si debba ciò che vi è di meglio le nostre virtù e i nostri vizi le nostre scienze e i nostri errori i nostri conquistatori e i nostri filosofi cioè una quantità di cose cattive su un piccolo numero di buone potrei infine provare che se si vede un esiguo numero di potenti e di ricchi alcuni della grandezza e della fortuna mentre la massa striscia nell'oscurità e nella miseria ciò è dovuto al fatto che i primi stimano le cose di cui fruiscono soltanto nella misura che gli altri ne sono privi e che senza cambiare di stato cesserebbero di essere felici se il popolo cessasse di essere miserabile ma questi particolari quest'opera fu scritta o almeno cominciata da Rousseau quello che ne è stato fatto fu pubblicato da Rousseau stesso con il nome di contratto sociale e della sua opera politica più importante in cui si peserebbero i vantaggi e gli inconvenienti di ogni governo relativamente ai diritti dello stato di natura in cui si mostrerebbero tutti i differenti aspetti in cui la disuguaglianza si è manifestata fino a ora e potrà manifestarsi nei secoli futuri secondo la natura di quei governi e le rivoluzioni che il tempo vi apporterà necessariamente vi si vedrebbe la moltitudine oppressa all'interno per effetto di quelle stesse precauzioni che essa avesse prese contro coloro che la minacciavano dal di fuori si vedrebbe che l'oppressione aumenta continuamente senza che gli oppressi possano mai sapere fino a quale limite si arriverà né quali mezzi legali restino loro per fermarla si vedrebbe come i diritti dei cittadini e le libertà nazionali si estinguono a poco a poco e le proteste di deboli vengono trattate da mormorazioni sediziose si vedrebbe come la politica a limite a una sola parte mercenaria del popolo l'onore di difendere la causa comune se ne vedrebbe derivare la necessità delle imposte si vedrebbe il coltivatore abbandonare scoraggiato il suo campo anche durante la pace e lasciare l'aratro per cingere la spada si vedrebbero i difensori della patria divenirne primo dopo nemici tenere continuamente il pugnale alzato sui loro concittadini e verrebbe il momento in cui li si sentirebbe dire all'oppressore del loro paese se mi comandi di immergere la spada nel petto del fratello e nella gola del padre o nelle viscere della moglie incinta anche se malvolentieri farò tutte queste cose Marco a Neolucano 3965 d.C poeta epico latino autore della farsaglia e gli odi e tragedie che ingelosirono Nerone dall'estrema disuguaglianza delle condizioni e delle fortune dalla diversità delle passioni e dei caratteri dalle arti inutili dalle scienze frivole nascerebbe un mucchio di pregiudizio ugualmente contrarre alla ragione come alla felicità e alla virtù si vedrebbero i capi fomentare tutto ciò che disunendoli può indebolire degli uomini riuniti tutto ciò che può dare alla società un'area di apparente concordia e seminarvi dei germi di divisione reale tutto ciò che può ispirare ai diversi ceti sfiducia e odio reciproco a causa dell'opposizione dei diritti e degli interessi e di conseguenza rafforzare il potere che li tiene tutti a freno dal seno di questa anarchia e di queste rivoluzioni il dispotismo alzando poco a poco la sua orribile testa e divorando tutto ciò che egli sembri buono e sano in qualunque parte dello Stato giungerebbe alla fine a calpestare sotto i piedi le leggi e il popolo e ad assidersi sulle rovine della Repubblica il tempo precedente a quest'ultimo cambiamento sarebbe un tempo di torbidi e di calamità ma alla fine tutto sarebbe ingoiato dal mostro e i popoli non avrebbero più né capi né leggi ma solo dei tiranni inoltre da quel momento non sarebbe più questione di costumi e di virtù perché ovunque regni il dispotismo cui ex onesto nulla est spes che non spera nulla da chi è onesto esso non sopporta nessun altro padrone non appena esso parla non bisogna interrogare né la probità né il dovere e la cieca obbedienza è la sola virtù che resta agli schiavi così siamo arrivati al termine estremo della disuguaglianza e al punto estremo che chiude il circolo e tocca il punto da cui siamo partiti è qui che tutti gli individui ridiventano uguali perché non sono nulla e siccome non hanno un'altra legge che la volontà del padrone e questi non hanno altra regola che le sue passioni la nozione del bene e i principi della giustizia svaniscono di nuovo qui tutto si riconduce alla sola legge del più forte e di conseguenza a un nuovo stato di natura che differisce da quello da cui abbiamo prese le mosse perché quello era lo stato di natura nella sua purezza mentre quest'ultimo è il frutto di un eccesso di corruzione d'altra parte c'è così poca differenza fra questi due stati e il contrario politico è talmente dissolto nel dispotismo che il despota è il padrone soltanto fin quando è il più forte e non appena lo si può espellere non ha motivo di reclamare contro una tale violenza la sommossa che finisce con lo strangolare o deporre un sultano è un atto altrettanto giuridico quanto lo erano quelli con cui egli disponeva della sorte delle vite e dei beni dei suoi sudditi la sola forza la sola forza lo teneva in piedi la sola forza lo rovescia ogni cosa accade quindi secondo l'ordine di natura e qualunque possa essere il risultato di queste brevi e frequenti rivoluzioni nessuno può lamentarsi dell'ingiustizia altrui ma soltanto della sua propria imprudenza o della sua sfortuna così scoprendo e seguendo le vie dimenticate e perdute che hanno dovuto condurre l'uomo dallo stato naturale allo stato civile e ristabilendo insieme a quelle che ho segnato tutte le altre posizioni intermedie che o la mancanza di tempo mi ha fatto tralasciare o l'immaginazione non mi ha suggerite ogni attento lettore non potrà non essere colpito dalla distanza immensa che separa questi due stati è in questa lenta successione di cose che egli vedrà la soluzione di un'infinità di problemi di morale e di politica che i filosofi non possono risolvere vedrà che la ragione per cui Diogene Diogene di Sinope IV secolo a.C. antico filosofo della scuola cinica si narra che andasse attorno di pieno giorno con una lanterna in mano dicendo che cercava l'uomo non trovava l'uomo è che siccome il genere umano di un'epoca non è più il genere umano di un'altra epoca egli cercava fra i suoi contemporanei l'uomo di un tempo che non era più e dirà che Catone Catone detto Luticense 95-46 a.C. dopo la sconfitta dei Pompeiani e la vittoria di Cesare che segnò la fine della libertà repubblicana in Roma si dette la morte per non subire la dittatura cesariana morì con Roma e con la libertà perché era uno spostato nel suo secolo e che il più grande degli uomini non fece altro che stupire quel mondo che se fosse vissuto 500 anni prima avrebbe governato in una parola il lettore spiegherà come l'anime e le passioni umane alternandosi insensibilmente cambino per così dire di natura perché a lungo andare i nostri bisogni e i nostri piaceri cambino i loro oggetti perché a mano a mano che l'uomo originario sparisce la società non offra più agli occhi del saggio che lo spettacolo di una riunione di uomini artificiali e di passioni fittizie che sono opera di queste nuove relazioni e che non hanno alcun vero fondamento nella natura quello che la riflessione ci insegna a questo proposito è completamente confermato dall'osservazione l'uomo selvaggio e l'uomo incivilito differiscono talmente nel fondo del cuore e delle inclinazioni che quello che costituisce la felicità suprema dell'uno riduce l'altro alla disperazione il primo non desidera altro che quiete libertà altro non desidera che restare in ozio e la stessa imperturbabilità degli stoici filosofi antichi i quali predicavano che la felicità consiste nell'imperturbabilità e nell'assenza di passioni non si avvicina alla sua profonda indifferenza per ogni altra cosa invece il cittadino è sempre attivo suda si agita si tormenta continuamente per cercare occupazioni delle più faticose lavora fino a morire e anzi corre alla morte per mettersi in condizioni di vivere oppure rinuncia alla vita per conquistare l'immortalità fa la corte ai potenti che odia e ai ricchi che disprezza non bada a spese per ottenere l'onore di servirli si vanta con orgoglio della sua bassezza e della loro protezione e fiero della sua schiavitù parla con disprezzo di quelli che non hanno l'onore di condividerla quale spettacolo sono per un caraibo i lavori faticosi e invidiati di un ministro europeo quante morti crudeli questo selvaggio indolente non preferirebbe all'orrore di una vita simile che spesso non è neppure rallegrata dal piacere di fare del bene ma per vedere lo scopo di tante fatiche bisognerebbe che le parole potenza e reputazione avessero un senso per la sua mente che imparasse che c'è una specie di uomini i quali danno una certa importanza agli sguardi del resto del mondo che sanno di essere felici e contenti e questa è di fatto la vera causa di tutte queste differenze che il selvaggio vive in se stesso mentre l'uomo socievole sempre fuori di sé invece sa vivere soltanto nell'opinione degli altri ed è per così dire soltanto dal loro giudizio che gli trà il sentimento della propria esistenza non fa parte del mio argomento il mostrare come da una tale disposizione nasca tanta indifferenza verso il bene e il male insieme a tanti bei discorsi di morale come riducendosi tutto alle apparenze tutto divenga fittizio e simulato onore amicizia virtù e spesso persino i vizi di cui si finisce col trovare il modo per gloriarsene insomma come domandando sempre agli altri quello che siamo e non osando mai interrogare noi stessi in proposito in mezzo a tanta filosofia tanta umanità e civiltà e tante massime sublimi non abbiamo che un'apparenza esterna ingannatrice frivola onore senza virtù ragione senza saggezza e piacere senza felicità mi basta di aver provato che questo non è lo stato originario dell'uomo ed è soltanto lo spirito della società e della disuguaglianza da questa generata che cambia e altera in tal modo le nostre inclinazioni naturali ho cercato di esporre l'origine e l'evoluzione della disuguaglianza della fondazione e dell'abuso delle società politiche per quel tanto che queste cose possono dedursi dalla natura dell'uomo mediante i soli lumi della ragione e indipendentemente dai dogmi sacri che danno l'autorità sovrana alla sanzione del diritto divino da questa esposizione si deriva che la disuguaglianza la quale è quasi nulla nello stato di natura trae forze e incremento dallo sviluppo delle nostre facoltà e dai progressi dello spirito umano e diviene alla fine stabile e legittima opera dell'istituzione della proprietà e delle leggi ne segue anche che la disuguaglianza morale sancita soltanto dal diritto positivo è contraria al diritto naturale ogni volta che non è proporzionale alla disuguaglianza fisica distinzione che precisa abbastanza ciò che si deve pensare intorno a quella specie di disuguaglianza che regni in tutti i popoli civili poiché è manifestamente contrario alla legge di natura in qualsiasi modulo si definisca che un bambino comandi a un vecchio che un imbecille guidi un saggio e che un pugno di uomini sia pieno di cose superfule mentre la moltitudine affamata manca del necessario